Supera i 16 miliardi il business delle agromafie nel 2015, alimentato da ogni tipologia di illeciti, dalle truffe alle estorsioni, dal riciclaggio alle associazioni per delinquere di stampo mafioso e camorristico. Un fenomeno dilagante in tutta Italia, dal sud a nord. E questo lo spaccato che emerge dal quarto rapporto sui crimini agroalimentari in Italia, Eurispes Col Diretti e Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare. Per quanto riguarda l'agroalimentare la loro filosofia è quella di sempre, piatto ricco micifico, nell'agroalimentare c'è da guadagnare, se si gioca con un mazzo truccato si guadagna ancora di più, ecco che inesorabilmente le mafie ce le troviamo. Quanto alla Campania il presidente regionale di Col Diretti, Gennaro Masiello, ha sottolineato la gravità dei dati chiedendo il sostegno delle istituzioni. Sulla terra dei fuochi col Diretti ed Eurispes parlano di pregiudizie psicosi che hanno creato un grave danno di immagine alla regione. Infatti dai risultati delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni destinati all'agricoltura nella regione Campania, con priorità ai 57 comuni della terra dei fuochi, è emerso che solo il 2% dei terreni mappati è a rischio, mentre il restante 98% degli stessi non si possono definire a rischio secondo i rigorosi criteri utilizzati per la rilevazione. L'Italia ha un brand molto positivo all'estero e evidentemente le mafie provano a inserirsi e poi ci sono tanti profili di grande interesse rispetto a questa situazione, profili di interesse che vanno per esempio a capire come si interfacciano le questioni sulla terra dei fuochi rispetto per esempio all'immagine complessiva dell'agricoltura del paese.